Emanuele Castellini vicepresidente FISE, un consiglio lungo ma proficuo, ci può dare il suo parere? Buonasera a tutti, è stata una giornata intensa, direi anche molto interessante e molto piacevole il consiglio, malgrado la lunghezza, siamo riusciti anche a parlare un po' di cavalli, oltre che a fatti economici indispensabili in questo momento federale, ma molto di equitazione, equitazione, abbiamo avuto un ospite oggi che ci ha tenuto per un'ora, ci ha aggiornato sui lavori che stavano facendo la formazione, molto interessante. Altre questioni affrontate? Abbiamo affrontato un sacco di problemi quotidiani sul gestionale, sull'organizzazione, sui concorsi, le trasferte che abbiamo nei prossimi settimane molto impegnative, e anzi anche definitive, insomma per il nostro futuro agonistico e ancora sottolineo il punto della formazione che è l'obiettivo di base del nostro mandato. Grazie. Grazie.